C'è da smaltire il mal di Marche per il Roma City, reduce dalla sconfitta di Ancona, l'occasione si presenta già oggi all'Ariano Athletic Center perché c'è il Castelfidardo forte, galvanizzato da sette punti in sole tre partite, momenti, umori decisamente diversi per un obiettivo però, quello sì, che è un obiettivo comune, quello di scacciare, allontanare prima possibile dal collo il fiato pesante della zona play out, quattordicesima giornata in serie D, girone F, amici di Fanner, un saluto da Michele Bonucchi, è servita adesso Roma City, Castelfidardo anche il Castelfidardo vive un momento di transizione con la di partita in blocco dello staff, pallone profondo per Camilli, conta i rimbalzi, incrocia Camilli palla fuori di un'unghia, ma che occasione per il Roma City che finisce però per perdere un'altra palla, un po' di confusione in questi primi minuti occhi a Nanaper che vuole mettere tutto in chiaro, lanciando dentro Bracconi, zona tiro, Bracconi incrocia, non basta, l'intervento di Salvati il Castelfidardo è in vantaggio col suo bomber, Bracconi, di forza, Gelonese, gli è la scippa, mini ruleta ma D'Andrea non fa ancora una volta, una mossa, si prosegue, Cotugno limite, vuole inescare dentro Bandini, posizione regolare, Bandini, Salvati si tuffa e col piede di richiamo salva i suoi Care Camilli, saltano in un paio a vuoto, occhio a Costa, che si è liberato del pallone, zona tiro, Costa, Costa, Costa la piazza facile per Osama che la blocca alla sua sinistra, Roma City, vicino al pareggio occhio a Hernandez che cerca lo spazio per il tiro, poi un no look che quasi lo avvantaggia, vince il rimpallo, Hernandez calcia la blocca, Osama, dia 6, il numero 11, allora prova a prendersela, Bandini si inserisce tra eline, Nanaper ha provato a servire un compagno poi zona tiro, prova col destro che rimbalza in due tempi con un brivido salvati cadenza ai passi Hernandez, oltre la barriera Hernandez Osama può guardarla spegnersi, Calisto Hernandez, scarico per Bonello, torna da Hernandez che può prendere velocità su quel binario ancora Hernandez, prepara tutto per il destro, vede la porta, la cerca con questo lancio morbido gelonese di testa, la palla morbidamente finisce Preda, di Osama che la blocca, Calisto con tutta la forza e tutta la disperazione del mondo la Roma City, pallone messo dentro in briola, in brutto stile, rinvia, è l'ultimo atto una partita sporca, si decide tutta nel primo tempo Bracconi fa corsare al Castelfidardo che batte Roma City 1-0